Il Monastero Ma per tutti, libertà significa, anche, che, ora che l'Italia è fatta, dobbiamo farci gli affari nostri. Voi siete di destra. Il presidente del Consiglio non è di sinistra? Destra, sinistra... Oggi non significano più niente. Ti sei illusa del tuo amore con Giovannino. Ma è suo fratello Michele che ti vogliono far sposare. Sì. Michele, loScorpio. Un discendente dei vice re che trama contro il suo stesso sangue. I padri operano per il bene dei loro figli, non per la loro infelicità. Se non lo sposi, non sarai più mia figlia. E allora non sarai più bozza figlia. Ne devi andare da qua con Salfa. Sempre be' cose di fretta e senza riflettere. Il male nel nostro sangue. Per sconfiggere il male il bene non basta. Ma tutti mi odiano e ho insegnato a odiarmi. E' l'odio che ci fortifica. No, l'amore è come dicono i deboli. L'odio che ci tiene in vita.